Quindi se già giriamo con le fibre possiamo andare incontro a una disbiosi intestinale quindi andare a favorire troppo quelle specie microbiche che si usano appunto di fibre e che quindi ecco che vanno a creare uno squilibrio quindi si possono avere poi delle problematiche di gonfiore, gas intestinale e altre serie di fastidi che sono appunto collegato con un eccessivo consumo di fibre quindi fibre ok ma sempre nelle giuste quantità questo vale ovviamente per qualunque cosa